Anno di fondamentale importanza il 2017 per la nobile arci confraternita di Maria Santissima del Carmelo a Bagnara Calabra. Il consiglio di amministrazione su input del priore Santo Versace ha deciso di avviare i lavori di restauro conservativo di parte del complesso architettonico del Carmine, bene storico artistico di notevole valore. La parte interessata in questa prima fase dei lavori riguarda l'ospizio di carità, un edificio che si trova accanto alla chiesa e che ospita tra l'altro il museo dell'arci confraternita. Nei mesi scorsi è stato presentato il progetto di ristrutturazione conservativo dell'edificio a cura dell'ingegner Francesco Velardo e dell'architetto Mariangela Mocciola. L'immobile mostra evidenti segni di alterazione e degrado, le cause sono senza dubbio da attribuirsi al ritardo prolungato degli interventi manutentivi, alcuni dei quali rivelatisi inefficaci alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria degli ultimi anni. Crolli localizzati di parte di cornici, freggi ed intoneco di rivestimento esterno si aggiungano ad un'inesistente manutenzione delle opere in ferro. Anche la struttura portante mostra segni di degrado sempre più preoccupanti. A questi va aggiunto il deterioramento che interessa il piano di copertura causato dalle numerose infiltrazioni dovuto al manto di impermeabilizzazione danneggiato in diversi punti. L'edificio ha una valenza storica importantissima. L'edificio stesso nel corso insomma di tutti quanti questi anni ha subito diverse destinazioni d'uso. in questo momento conserva il museo dell'Arciconfraternita e volontà dell'Arciconfraternita dedicata a Maria Santissima del Monte Carmelo continuare nell'opera di salvaguardia e valorizzazione. Questa struttura è stata ristrutturata già nel 1908, dopo il terribile terremoto del 1908. Il terremoto l'aveva interessata parte di questo edificio. La ricostruzione di questo edificio è stata assegnata, l'opera di ristrutturazione è stata assegnata ed è stata curata dall'ingegnere Mollino. Il costo complessivo dell'opera di restauro ammonta a 158 mila euro. Non tutta la somma è nella disponibilità dell'Arciconfraternita che proprio per questo ha lanciato una raccolta fondi che servirà in questa prima fase a realizzare quei lavori utili ad arrestare lo stato di alterazione e degrado in cui versa l'edificio. L'obiettivo è quello di intervenire per mettere in sicurezza lo stabile, bloccare le infiltrazioni d'acqua e salvaguardare le strutture dai rischi derivanti da eventi climatici e dall'inquinamento atmosferico. Al momento la somma stanziata dal Consiglio di Amministrazione è pari a 50 mila euro. Ne servono altrettanti per avviare i lavori per poi puntare successivamente a completare l'intervento. Questo è un patrimonio di cui tutti quanti i bagnaroti ne devono andare fieri. È un patrimonio che noi con grossi sacrifici e con grossi sforzi stiamo cercando di tutelare e salvaguardare e valorizzare. In questa fase abbiamo bisogno dell'aiuto non solo dei confratelli ma di tutta quanta la cittadinanza per poter eseguire parte dei lavori. Per far fronte a questa spesa l'Arciconfraternita nel corso degli anni precedenti ha già messo da parte una discreta somma di denaro però non basta per poter dare nuovamente accessibilità a questo luogo. Qual è l'utilizzo poi che l'Arciconfraternita vorrà fare di questo immobile? In primis è quello là del museo. Museo che è stato inaugurato nel 2000 per volere dell'allora a priori Antonino Raneri il quale con grossi sacrifici ha messo in piedi e ha fatto conoscere i beni che abbiamo all'interno di questa Arciconfraternita anche agli altri perché prima erano privilegi solamente di poche persone mentre abbiamo messo a conoscenza tutti di qual era il patrimonio che questa Arciconfraternita e le potenzialità che aveva. In questo momento quindi è continuare in quella fase quindi valorizzare più possibile il museo con un accesso più decoroso e poi utilizzare anche degli spazi per l'Arciconfraternita stessa perché l'Arciconfraternita è di tutti quanti i confratelli, di tutto quanto il popolo di Bagnare e tutti quanti dobbiamo farne un giusto utilizzo.